Quanto vale la tua reputazione? Sul web, come appari? Cosa si dice di te? Ti faccio una domanda, hai mai comprato un prodotto di cattiva fama o di fama mediocre? È fondamentale che la tua reputazione migliori, non il contrario. Hai questa qualità, hai questo controllo. Quindi risparmi su tutto, ma non sulla tua reputazione. Di solito noi compriamo prodotti che hanno per noi il miglior rapporto, qualità percepita, presso. Perché quindi i tuoi potenziali clienti dovrebbero sceglierti se sul web, ad esempio, nemmeno esisti? Perché il fatto che tu sul web abbia una presenza, diciamo, più o meno visibile o addirittura non ci sia, in verità di te dice molte cose. Perché come sintetizzato da Vasslavik nel primo assieme della comunicazione, è impossibile non comunicare. Per cui il fatto che tu non ci sia sul web, o ad esempio, come dire, di te si parli molto poco o in modo molto anonimo, in verità dice, ad esempio, che tu hai poche cose da dire, o non hai niente di importante da dire, oppure abbia bisogno di nasconderti. E di solito non sono cose rassicuranti per il tuo business. Tutti noi vorremmo risparmiare il più possibile quando facciamo qualsiasi tipo di investimento, ma in verità la soluzione è una efficiente, una efficace strategia di comunicazione integrata digitale. Una cosa da considerare anche, per come strutturare oggi la comunicazione digitale, soprattutto per ciò che riguardi social, Ciò che fa Brand non è più solamente quello che dici tu ai tuoi clienti, ma la conversazione fra loro. E come avviene la conversazione fra loro? Come riesci ad essere in un qualche modo efficace nel rapporto fra i tuoi clienti all'interno dei social? Perché puoi rinunciare a tutto, tranne il tuo nome. Perché la tua reputazione è la tua materia prima più preziosa. In quanto una volta persa si ricostruisce, forse, con molto tempo e molta fatica, vuole dire molto denaro. Grazie a tutti! Grazie a tutti